Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A12 pioggia tra Pisa Centro e l'allacciamento per la statale Uno Aurelia. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la Uno di Firenze in Pruneta. Sulla Fibili per intervento di riprissino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione mare e prestare attenzione per personale su strada segnalato tra gli svincoli di La Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione mare. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Orsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!